La Sevel ha comunicato la decisione alle RSU di fabbrica. L'azienda prosegue con la cassa integrazione ordinaria fino al prossimo 5 aprile, una conseguenza dell'ultimo decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiuso le attività produttive di beni non essenziali in questa fase di emergenza sanitaria da coronavirus. L'attività dovrebbe quindi riprendere il 6 aprile, ma la situazione è in divenire. Per il dopo, dice infatti la RSU FIOM CGL, aspettiamo decisioni in merito. Naturalmente tutto dipenderà dall'evolversi della drammatica situazione sanitaria che stiamo vivendo e anche dalle decisioni che verranno prese. Si spera che la produzione possa riprendere al più presto, sottolinea la RSU FIOM, perché chi crede che non vogliamo lavorare si sbaglia di grosso. Noi tutti, concludono i sindacalisti, avremo fatto a meno di questo triste momento.